Oggi per noi è il grande giorno, il giorno in cui l'Only Planet in tutto il mondo annuncia le destinazioni per il 2023, quelle consigliate ai nostri lettori. Quest'anno c'è una grande novità che sono le categorie in cui abbiamo organizzato queste destinazioni che coprono finalmente di nuovo tutto il mondo riaperto dopo la pandemia. Ci sono scoperte per tutti i gusti, per chi ama il cibo, per chi ama il relax, per chi invece desidera disconnettersi con il proprio quotidiano e entrare più in contatto con la natura incontaminata di cui ancora il pianeta è ricco. C'è anche una destinazione italiana, è l'Umbria, perché nel 2023 si celebrano i 500 anni del Perugino e quindi vi invitiamo tutti a consultare i nostri contenuti, le nostre destinazioni su longlyplanetitalia.it e bene, speriamo che tutto questo vi possa ispirare per tutti i vostri prossimi viaggi.